buongiorno ragazzi e ritornati in questo nuovo video ci vedremo questa casa che ho fatto oggi come vedete ha più casse molto funzionali e anche un led beh ragazzi che sto testando con il telefono per il telefono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.